Al processo sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D'Amelio risponde uno degli imputati, le dichiarazioni del poliziotto Fabrizio Mattei. Angelo Roppolo. Nell'ambito dell'inchiesta sul depistaggio delle indagini dopo la strage di Via D'Amelio contro il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, sono attualmente sotto processo in primo grado a Caltanissetta tre poliziotti. Il funzionario Mario Bo, ex capo del gruppo di indagini Falcone Borsellino e gli ispettori in pensione Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo che si occuparono della tutela di tre falsi pentiti, Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Calogero Pulci. I tre poliziotti sono imputati di avere suggerito ai tre falsi collaboratori la versione da fornire agli inquirenti e i nomi da indicare quali responsabili della strage. La falsa verità a cui tanti anni i giudici hanno creduto è costata la condanna all'ergastolo a sette innocenti, poi scarcerati e adesso parte civile. Ebbene, adesso uno dei tre imputati, Fabrizio Mattei, è intervenuto al dibattimento sotto esame dei magistrati e a domande rispondendo ha dichiarato Sono entrato nel gruppo Falcone Borsellino nel dicembre del 1992 e ci sono rimasto fino al giugno 1995 quando sono stato trasferito alla sezione di polizia giudiziaria di Palermo. Io mi relazionavo con l'ispettore Ricerca e lui si relazionava con i funzionari. Non mi sono mai occupato della strage di Via D'Amelio, ma solo di quella di Capaci. Non sono mai andato a Caltanissette dei magistrati. A San Bartolomeo a Mare, ovvero la località protetta in cui viveva Scarantino, avevamo il compito della scorta alla famiglia con assistenza alla moglie e ai bambini. E a Scarantino, quando andava a Genova, per qualsiasi problema al di fuori del nostro servizio, andavamo alla questura d'Imperia. Ci andavo ogni giorno, mi facevo vedere, mi sembrava un atto doveroso quello di farsi vedere, visto che eravamo in un'altra città. Da Morso a maggio del 1995, non sono più andato a San Bartolomeo a Mare. Vincenzo Scarantino ce l'aveva sempre con la vigilanza, soprattutto perché era geloso della moglie e sosteneva che gli agenti la guardassero. Lui parlava di altri problemi, ma non di argomenti relativi alla collaborazione con la giustizia, cosa di cui con lui non ho mai parlato, visto che era troppo geloso. Quando la moglie doveva uscire, la lasciavamo uscire con la collega. Quando la moglie non c'era, dovevamo rimanere con lui. Senza motivo non rimanevamo mai in casa. La nostra era una presenza saltuaria. Andavamo la mattina a prendere i bambini per portarli a scuola. Neanche entravamo. Con noi Scarantino non parlava mai di telefonate. Le nostre interlocuzioni erano legate ai problemi della vita quotidiana. A volte trovavo una scusa per vedere come stava la moglie, perché la picchiava, ed ero preoccupato per lei e per i bambini. A parte questo, non avevo con lui alcuna confidenza. Non era persona con cui si poteva averla. All'inizio è stato un fiume in piena. Andava su e giù. Per quella, per quella soggiore.